Eccolo il supergoal! Porco di***e del Perusa! Come facciare il video c***o un'ora prima? E arrivate un quarto d'ora dopo? Sta calmo però! Oh dai, va a vedere il Perusa! Amo! Amo! Mi piompe il c***o il gol! No Claudio! Guarda una cosa seria! Ti sento male! Mi senti? Ma per favore fa tornare indietro Masse senza partito! Io sto qui al bar dell'asilo della Nina che ti prendevo le sigarette che l'hai finito! Ho fatto retromarcia! Un imbecille! Mi è venuta addosso! Mi è venuta addosso! Mi è venuta addosso! Ma chi è? Ma non lo so! Parla straniero! Messa! Fermamelo là! Ma che f... No! La pancia non l'ho battuta! La pancia non l'ho battuta! Ho dato una testata! Ma è la macchina! La macchina è distrutta! Le manco porricelli d'amico te le arpeglia! Giusto le gomme! Non ci ha armato un c***o! Non ferma chiunque sia la persona veniva davanti a te! Fermala! Dai! Fermala! Siamo arrivati! E ora devo scappare un montone però! Un minuto! Che hai fatto là? Un bloccato! Che è successo? Mi è davanti a sbatte uno! Ora adesso! Ma sbatte come? Non lo so! Ma chi era questo? Non so! Ma appena ho sentito sbatte mi sono... Mi sono agitato! Ma va lì? Eh! C'era anche la Nina? No! Si! C'era una Nina di c***o! Mi ha ammazzato qualcuno! Già così! No! Mi ha preso il caldo! No! Stacca! Non è successo niente! Si l'ha tamponata! Nen c***o! Si! Ma tu ti sei fatta male o no? No! Non ti sei fatta male! Vabbè è tanta la testa! Mi frega la pancia! La pancia non c***o! Non c***o! Non c***o! Si! Ma siamo a montone noi! Porto c***o! Non vuoi fare il c***o! Non vuoi fare il c***o! Non vuoi fare il c***o! Ma manca i carabinieri eh! I carabinieri! In voi nessuno! Ci parlo io! Non ti preoccupa! Ci parlo io con questo! La gente comunque sta fulminando! No! Come non parlo italiano! Maduro! Un parlo italiano! Non capirà! Non capirà! Le faccio capirà! Non ti preoccupa! Le faccio capirà! Oh Elisa! Guarda! Mi sta venendo a piangere nervoso! Io non parlo più! Ci parlo io! Amuso amuso! Non ti preoccupa! E poi c'è la gente che si fulminando! Fa posta eh! Il problema è che siano stranieri senza assicurazione! Oh si! Eh! Suggeri! Allora! Tu che ho chiamato l'avvocato! Guarda! No! Te fai dei soldi subito! Fai dei soldi subito! E festa finita! Che soldi si avrà! Ehi! 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 Pappagnola subito! Se mi vuoi pensare! Adesso sta calmo! E dopo! Vedi chi è perché! Mi prega la sega chi è! Italiano! Straniere! Sta calmo! Sta calmo! Sta calmo! E' f***o posto! Ma tu non fa piccicoso di a*****e! Eh! Appannati i vitri! Eh! Ma tu non fa piccoso! Ehi! Mi sa pure! Ecco ci siamo arrivati! Dai! Questo? No! Due! Oh! No! 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 Claudio Misaglia! Benvenuto a*****o! No! 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 No!